salve a tutti io sono guido verosimile e questo è serie c questione meridionale l'appuntamento che fa il recap della giornata del girone c di serie c partita per partita partendo dalla bassa classifica fino ad arrivare al focus sul big match partiamo quindi dal testa coda che c'è stato in questa giornata ovvero quello fra fidelis andria e catanzaro l'andria ospitata dai calabresi è stata asfaltata per 4 a 0 se una novità l'impiego di brignola esterno a tutta fascia a destra sicuramente non è una novità che l'esterno sinistro vande putte abbia servito un ulteriore assist per sbloccare il match su un corner capitalizzato da scognamillo dopo poi aver sbagliato tre gol non da lui veramente abbastanza facili gli emmello entra in partita nel secondo tempo si rifà con una doppietta sbloccandosi prima sul rigore e poi finalizzando un ulteriore il diciassettesimo per la precisione di questa stagione assist di vande putte e dopo un velo di sonas da fuori aria gli emmello quindi si sigla il suo diciassettesimo gol in campionato la chiude poi a fine partita cianci il 4 a 0 ci rilascia quindi un catanzaro che va a più 11 dal crotone e un andria che è presentata sul campo della capolista senza strumenti ma nemmeno convinzione quella che invece non è mancata la peter bese nel successo interno per 2 a 0 contro il monopoli squadra che nella scorsa puntata avevo esaltato e ho detto la rinascita del monopoli certo ha perso con la peter bese che era ultima in questo 4 2 3 1 inedito diciamo non ha avuto l'effetto sortito l'effetto voluto da pancaro bensì ha portato per un brutto approccio la peter bese era in palla passa subito alla mezz'ora con semenzato poi un rigore realizzato da marotta farà alzare ai pugliesi bandiera bianca veramente strane secondo me le scelte di pancaro per la formazione idolare finisce gennaio e il messina torna a perdere si ci sveglia dalla dalla favola e il messina questa volta cede in casa contro il cerignola che invece cementifica il quinto posto mattatore del match zack ruggiero inglese nato a bishop oakland ma cresciuto a crotone e che arriva al suo primo gol arriva per la prima volta all'appuntamento col gol in questa stagione con un colpo di testa dal cedangolo qualcosa sicuramente non è andato bene nella difesa del messina perché lui è alto un metro e 74 non ha mai fatto un gol di testa in carriera difficile poi creare gioco al defilippo scoglio di messina ma quelle poche occasioni che hanno i peloritani che hanno i peloritani le spregano anche abbastanza clamorosamente ambe due di testa e a porta spalancata finiscono poi in dieci entrambe le squadre come una buona sana partita di serie c finisce invece con un trionfo per i padroni di casa lo scontro tra le altre due squadre che occupano la zona dei playoff stiamo parlando di turris e monterosi le prova di forza quindi della turris che sarà trascinata dal dall'energie nuove e vecchie ovvero quelle di dion ruffo luci calciatore appena arrivato all'esordio con la maglia dei corallini che subito ha segnato lui che era uno dei tanti giovani che sinisa mialovic fece esordire in serie a con il bologna ma anche come ho detto le vecchie glorie le vecchie energie ovvero il gol classico di del solito maniero dall'altra parte il monterosi si era schierato per la prima volta in stagione con un 4 3 3 una spinta offensiva che in realtà si è vista il monterosi anche giocato abbastanza bene soprattutto il primo tempo tanti tiri tante conclusioni per una squadra di solito arroccata sempre dietro tuttavia per battere la propria coinquilina della zona play out bisogna segnare il monterosi non c'è riuscito nonostante i tanti errori difensivi di miceli finisce infatti 2 a 0 appena sopra i play out invece troviamo il potenza annientato a pescara per 5 a 0 avevamo parlato qualche settimana fa delle lacune difensive del potenza ma forse veramente troppo 9 gol presi in quattro gare dall'altra parte invece brillano i talenti del pescara soprattutto i giovani rafì ha fatto una grandissima partita anche se è riuscito a non finire sul tabellino dei cinque marcatori doppietto invece per all'esordio assoluto con il pescara per merola appena arrivato in prestito dall'empoli segnato anche vergani ma soprattutto forse troppe notizie buone in una sola volta per il pescara in quanto torna al gol anche facundo lescano che infatti poi si scusa con la curva durante l'esultanza che cercava di mettere a tacere le polemiche per il potenza invece veramente nulla crolla picco dopo l'esulsione di rocchi una squadra che si è basata veramente solo su salvatore caturano da scampia colpaccio in trasferta invece per la gelbison che riesce a frenare il foggia nel gelido pino zaccheria finisce uno a uno nel primo tempo meglio il foggia che anzi di voi era un'occasione con di noia che tentava di correggere di testa un pallone vagante in aria poi è la gelbison a passare con un pallone sempre vagante raccolto a tumminello che segna quindi il suo primo gol in campionato il foggia prova a reagire dando ampiezza cercando di innescare i propri esterni che quest'anno sono i giocatori stacendo la differenza e infatti poi alla fine arriva il gol di garattoni che batte un impeccabile anzi anatrella o anatrella che dir si voglia che sta sostituendo disponibile bernardino d'agostino che però veramente manca come l'aria garattoni con il suo diagonale vincente è ora il capo cannoniere dei satanelli nonostante sia il loro terzino destro e per chi si aspettava una partita inguardabile tra due squadre sempre sgradevoli quasi sempre sgradevoli da vedere come il taranto in latina aveva ragione alla fine vince il taranto dopo una gara che ha visto veramente non succedere nulla nel primo tempo e poi una traversa del latina con con guns prima del gol di bocca d'amo appena tornato al taranto un giocatore abbastanza sconosciuto come ho detto nello scorso episodio quindi trionfa 1 a 0 il taranto nel giorno del 45esimo anniversario dalla scomparsa di erasmo jacovone a cui è dedicato anche lo stadio del taranto figura leggendaria del club lui morì a 25 anni per un incidente stradale mentre era il capitano il capo cannoniere del taranto del 78 che stava dominando il campionato di serie b fino alla sua fino alla sua scomparsa da lì il taranto non riuscirà a salire poi in serie a non ci andrà mai il taranto rimane la città più grande in italia a non aver mai preso parte al campionato di serie a il francavilla invece in versione casalinga non delude mai ha vinto per ben 4 1 contro un giuliano penalizzato da un rigore al decimo minuto veramente inesistente incredibile cosa abbia cosa fischiato l'arbitro intervento pulito sulla palla che porta quindi maiorino se nessuno gol si ripeterà poi dopo aver anche sfiorato un gol olimpico altra doppietta invece per il re della puglia così l'ho visto soprannominare chicco cosimo patierno sul 4 a 0 per il gol della bandiera del giuliano ma veramente difficile giocare nel sul sintetico di francavilla fontana torna alla vittoria invece il picerno dopo il passo falso di monopoli e senza senza esposito in mauso reginaldo e massimo d'angelo la squadra lucana si è fatta guidare da ceccarelli ottimo oggi che porta quindi la squadra a vincere contro la sua ex squadra vero la juve stabbia il gol arriva poi per mano di di cristofaro e che porta un altro nennissimo uno in questa giornata di risultati diciamo alla vecchia maniera ma arriviamo finalmente al big match di giornata stiamo parlando ovviamente di avellino crotone in una partita elettrica due squadre che arrivavano nel pieno della loro delle loro rispettive rincorse il nel primo tempo ha giocato ad un buon ritmo il protagonista è trotta a mio avviso e supera sempre crealese recupera tutte le seconde le seconde palle e poi con le sue sventagliate gestisce la manovra fa salire spesso la squadra la scena però se la ruba probabilmente in parte ma zocco perché al 17esimo minuto sblocca il match per i padroni di casa con una bordata di sinistro dei 20 metri che fulmina l'ex dini il gol gol incredibile quindi del nuovo arrivato ma non sarà l'unico perché poi tempo 15 minuti e anche sonny d'angelo mette la sua firma dalla stessa identica mattonella in cui ha scoccato la sua freccia mazzocco si ripete d'angelo questa volta di destro e la palla sotto al 7 dini si tuffa anche ma non ci arriva il lavellino in palla canutea un'occasione incredibile con il portiere avversario battuto ma ovviamente non la sblocca non la sfrutta come come sempre il crudone prova ad attaccare con chirico che alla fine di questa partita avrà fatto praticamente dieci tiri nel secondo tempo poi l'ingresso di karkbo darà una mano ai pitagorici lui supererà molto spesso ricciardi entra in aria tenta varie volte di servire un compagno con il cutback ma mai veramente occasioni pericolose create dal crudone a questo punto infatti trotta sale di nuovo in cattedra e mette la firma il macigno del 3 a 0 dopo una mischia dove tangelo ha provato una rovesciata una semi rovesciata beneditti l'ha presa di testa trotta fa 3 a 0 però poi dopo un minuto concede abbastanza ingenuamente un rigore anche dubbio per un fallo sul karkbo realizzato poi da guido gomez non succederà però più nulla la partita si trascinerà nel nervosismo generale che porterà anche l'espulsione di dito molto bene l'avellino ci si aspettava qualcosa in più dal crudone forse giocare sempre con chirico un poco petricione gomez è troppo poco per una squadra che vuole mettere i bastoni tra le ruote del catanzaro per oggi era tutto ci sentiremo per la prossima giornata ciao